Ma che importava allora? E allora si domandò, procedendo verso Bond Street, che importava che ella dovesse ineluttabilmente e completamente cessare di esistere. Tanto fervore di vita sarebbe continuato senza di lei e se ne risentiva forse. O non era piuttosto consolante la certezza che la morte poneva fine a tutto. È possibile morire? È possibile morire? Da Harrods c'era un delizioso sopravvito per Angelica, ma niente per i ragazzi. Non mi è sembrato giusto. Perché privilegiare lei? Virginia? Virginia? Virginia! A cosa stai pensando? Sei ancora con noi? Tua zia è una donna molto fortunata, Angelica. Sì, perché lei ha due vite. Ha la vita che conduce e la vita del libro che sta scrivendo. Per questo è molto fortunata. Ma tu prima che cosa stavi pensando? Stavo per far morire la mia eroina. Ma adesso ho cambiato idea. Non ci riesco. Ho paura che al suo posto dovrò far morire qualcun altro. Ander. Grazie.